Sta per iniziare un nuovo anno scolastico, dunque al centro della nostra attenzione poniamo il mondo dei giovani. Mondo dei giovani che in questi ultimi giorni soprattutto, da fatti di cronaca sicuramente molto forti, tornano alla ribalta, soprattutto in quelle che sono le problematiche che spesso le nuove generazioni vivono. Spesso sentiamo parlare di disagio giovanile e di tutti questi temi, sono tantissimi ovviamente, faremo una sintesi. Parliamo con un'esperta di questo mondo, sia dal punto di vista del diritto, ma anche e soprattutto per la sua attività che la vede impegnata anche attraverso tanti progetti all'interno delle scuole, perciò che concerne un altro tema, quello del bullismo. Di tutto questo vogliamo parlare quest'oggi con l'avvocato Floriana Natale, che è tornata a farci compagnia nei nostri studi. Bentrovata Floriana. Bentrovati a voi. Dicevamo della cronaca, di tanti fatti giovani che spesso vengono disegnati davvero come senza valori, senza principi, immersi in un mondo fatto di sogni sicuramente, di illusioni. Questo è un altro aspetto fondamentale, ma anche spesso di violenza. Ecco, come possiamo inquadrare questo fenomeno Floriana, in base alla tua esperienza? Beh, sicuramente sotto gli occhi di tutti una situazione decisamente complessa, nella misura in cui manca proprio in questo momento storico ho evidentemente una consapevolezza innanzitutto morale da parte dei ragazzi, dei giovani, di quello che è soprattutto l'altro, il rispetto dell'altro e se vogliamo anche di se stessi, perché naturalmente sempre più volte anche nell'ambito della mia attività mi trovo ad impattare con realtà nelle quali i ragazzi e poi quindi anche i giovani non hanno ecco proprio considerazione e percezione del proprio ego ma ripeto anche dell'altro, perché io credo che sia una conseguenza, proprio un riflesso, tanto più ecco c'è una sorta di rispetto per se stessi sicuramente si può porre l'attenzione circa il rispetto verso l'altro. Spesso sentiamo parlare del ruolo dei genitori che in questo contesto rimane fondamentale, di quelle che fino a qualche tempo fa venivano definite agenzie educative, quindi la famiglia, la scuola, la società in generale, dunque tutti attori che contribuiscono alla crescita dei giovani. Ecco, in questo contesto è necessario, come d'altronde stiamo vedendo anche dagli ultimi decreti, che a livello legislativo tendono ecco ad affrontare la problematica, dicevo era davvero necessario intervenire dal punto di vista legale su aspetti che dovrebbero essere assolutamente naturali, il ruolo della famiglia nell'educazione dei genitori. Come mai oggi, a tuo avviso, la famiglia in certi casi abdica a questo ruolo? Beh, diciamo che la risposta indirettamente già l'hai data appunto, perché la famiglia oggi come oggi tende proprio a delegare a quelle che poi sono le agenzie educative. Io nell'ambito dell'attività professionale che svolgo appunto presso le scuole, non solo, in contesti appunto in comunità e quant'altro, ho sempre molta attenzione alla collaborazione tra le varie agenzie educative, che appunto sono la famiglia, la scuola. Io richiamo spesso anche le attività, per esempio, pomeridiane, che può essere l'attività della scuola di danza, basket, calcio, eccetera. Anche tante parrocchie. Tante parrocchie, dove appunto sicuramente si svolge un ruolo importantissimo. Ma il punto qual è? Ecco, secondo me è necessario riportare proprio l'attenzione sulla responsabilità genitoriale, che sicuramente sotto un aspetto codicistico esiste già. Lo stesso codice, nel momento in cui è stato chiaramente promulgato, non ha certamente dimenticato questo aspetto. Già anche in questa attività, noi abbiamo più volte sottolineato l'importanza della responsabilità genitoriale, intesa proprio come colpa in educando, che esiste naturalmente all'interno del nostro codice civile, però naturalmente viene sottostimata. Io spesso, quando mi trovo ad impattare con vittime di reati, purtroppo sono costretta a ricordare che a fronte di un danno subito, per esempio da un minore, penalmente, chiaramente l'adulto non potrà rispondere, perché noi ricordiamo che la responsabilità penale è personale, ma di certo a fianco ad una denuncia querele che cammina nell'ambito appunto penale, è necessario poi attivare quello che è il percorso civilistico in merito alla necessità del risarcimento danni, morali, fisici, biologici, psicologici, quelli che in quel momento sono stati violati. Quindi naturalmente, e questi danni presso chi vanno chiaramente richiesti? Presso i genitori naturalmente, che in quel caso sono i responsabili perché? Perché sicuramente hanno, come dire, sono venuti meno appunto da quell'attività educativa. Chiaramente situazioni tutte da dimostrare poi. Vediamo alcune notizie, perché diciamo appunto dell'attualità di questi argomenti che si concretizza proprio nelle ultime ore attraverso una serie di iniziative di cui questa mattina le prime pagine dei quotidiani hanno dato ampio risalto e che noi vogliamo riprendere in questo nostro contesto. Parliamo del Corriere di una notizia che riguarda la bozza del decreto di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile. Mille euro di multa ai genitori se il minore è ammonito dal questore. Due anni di carcere se il figlio non va a scuola. Alle scuole del Sud 32 milioni per potenziare l'organico dei docenti. Tutti fattori che sono correlati appunto nel contrasto a questo tipo di problema. Ma soprattutto quello che colpisce è anche il discorso relativo alle attività degli studenti sospesi che dovranno fare, svolgere presso le Caritas o nelle case di riposo. Per il ministro Valditara questo diventa l'errore, un motivo, un'occasione di maturazione e di crescita attraverso queste attività. Ecco, possono essere sicuramente dei primi passi, a tuo avviso sufficienti? Beh, diventano chiaramente, potrebbero essere sufficienti se c'è, e l'abbiamo detto prima, una collaborazione e c'è un ritorno delle famiglie a rendersi conto di quello che è il loro ruolo. Io credo che il lavoro deve essere fatto in maniera sinergica, quindi qualunque attività si ponga in essere non può prescindere dalla collaborazione delle famiglie, ma appunto, come stiamo vedendo, anche delle scuole che comunque io credo che facciano ancora poco. Ci sono diverse scuole, e io spesso ho lavorato in questi contesti, potrei dire virtuose, ma ancora molte non si sono attivate in questo senso. Per lo meno c'è un apparente movimento, e io credo che si dovrebbe fare di più, anche appunto con l'aiuto degli esperti esterni, come spesso accade, perché naturalmente io sostengo che nella vita non si può essere tuttologi, quindi è evidente che anche il docente va supportato, va supportato dagli esperti esterni, ognuno per le proprie competenze. E tra l'altro, nel decreto legge, almeno nella bozza, c'era proprio quello, l'intenzione è proprio di far sì che certi incontri debbano essere svolti proprio da esperti. Però attenzione, esperti che devono essere una guida affinché poi i ragazzi salgano in cattedra a raccontare la loro percezione del fenomeno, perché è chiaro che è importante dare voce ai ragazzi, vedere loro come stanno vivendo questo periodo e come vivono il fenomeno, e perché no estrapolare con loro delle soluzioni. Io credo che quella potrebbe essere la chiave, parlare con i ragazzi e insieme provare a porre in essere una sorta anche di regolamento, che magari nell'istituto può essere sicuramente attuato, a cominciare dall'istituto scolastico, perché se noi non responsabilizziamo i ragazzi, io credo che non faremo poi molto, anche coinvolgendoli nel discorso del dialogo, e soprattutto rendendogli ai dotti circa la possibilità che ad ogni azione corrisponde una reazione, e quindi anche l'ipotesi di una sanzione. E quindi la responsabilità in ambito sociale che il giovane deve percepire subito, anche attraverso iniziative importanti che riguardano, leggendo velocemente, perché il nostro tempo a disposizione purtroppo oggi ci limita solo ad un approfondimento veloce della notizia del giorno in qualche modo, c'è anche quella relativa all'utilizzo dei cellulari, un altro aspetto che abbiamo largamente trattato in passato, e dai 14 anni ci sarebbe anche poi, nel momento in cui si verificano questioni nelle quali interviene la legge, anche il divieto di possedere un cellulare per i minori colpevoli di reati, sappiamo benissimo l'utilizzo dei cellulari a cosa può portare anche nella stessa crescita dei ragazzi fino a una certa età. Ma concludiamo questo nostro spazio, Floriana, perché c'è un tema che a noi è sicuramente carissimo, ne abbiamo dato largamente risalto anche nell'ambito della nostra programmazione, che è quello del bullismo a scuola. Ecco, un tema che ci inorgoglisce perché in tempi non sospetti, lo abbiamo evidenziato sotto diversi aspetti, e oggi finalmente viene preso in considerazione seriamente dal legislatore. Tanto è vero che c'è stata l'unanimità alla Camera circa le nuove disposizioni relative appunto a questo fenomeno. Voglio subito dire che si tratta per la prima volta di una tipizzazione di quello che viene considerato adesso finalmente un reato. Sì, è proprio così. Infatti quando noi appunto in tempi potremmo dire non sospetti, avevamo già più volte trattato il tema del bullismo, effettivamente lo abbiamo inquadrato in una normativa che di certo era presente, ma che era una normativa di riferimento per lo più nell'ambito delle scuole, quindi l'obbligo per le scuole di dotarsi del responsabile contro il bullismo, l'obbligo per le scuole di attivare una serie di attività preventive, non solo preventive rispetto al bullismo, però effettivamente non c'era una normativa in preciso, perlomeno non c'era una fattispecie di reato che inquadrava il bullismo come tale. E quindi come si faceva? Effettivamente finché non cambierà la normativa, ancora oggi come si fa? Nel momento in cui un ragazzo subisce un atto di bullismo, si va ad individuare la fattispecie penalmente rilevante di riferimento. Se io ho subito dei danni all'interno dell'attività appunto del bullo, io mi attiverò per le lesioni, per le percosse. Se io ho subito una diffamazione, invocherò la norma penale che punisce la diffamazione. Quindi questo perché? Per spiegare appunto ai nostri telespettatori, che naturalmente non si poteva invocare la violazione del tema in questione, cioè non si poteva dire c'è stato un reato di bullismo. No, c'era un reato appunto afferente a quello che è il danno subito, percorse, lesioni, diffamazione. Laddove dovesse essere invece inquadrata una reale fattispecie, e quindi viene ad essere proprio, come dire, stilata una norma rispetto al bullismo. Quindi individuiamo proprio una violazione penale. In quel caso si potrà agire contro appunto coloro che hanno appunto creato il danno e quindi hanno creato questa fattispecie del bullismo. Ieri il passaggio alla Camera con voto unanime, ora si aspetta il passaggio al Senato, ma l'andamento ormai, l'orientamento è quello. E finalmente ecco, avremo una legge il cui fulcro è proprio quello di non solo punire, come giustamente si dovrà, ma anche prevenire e recuperare, ecco, sia le vittime dal punto di vista psicologico, ma soprattutto i fautori di questi reati. Floriana, io ti ringrazio per questo spazio che ci ha voluto dare quest'oggi, che può essere anche, come dire, un'introduzione a quello che potremo fare anche in futuro, perché, come possiamo vedere anche dai fatti, parlare di certi temi che possono sembrare lontani dalla nostra realtà, invece non lo sono assolutamente. E spesso e volentieri abbiamo delle belle notizie come quelle che abbiamo voluto dare quest'oggi, dell'attenzione del legislatore. Grazie Floriana e a presto. Grazie a voi. Ci fermiamo per una pausa e poi insieme per la parte finale del nostro programma. Grazie. Grazie.